L'esilissima e travagliata costruzione rende un po' difficoltosa la narrazione del buio sul far della sera. In scena la prospettiva senza punteggiatura dell'ovvio che si presta a tutto. L'ironia è una presenza costante, un flusso continuo invariabile prospettiva si affianca all'elaborazione fantastica. La polemica è concessa solo agli analfabeti, non ai burattini volgari pagati per dire. Si può sintetizzare in poche parole per emulare il contemporaneo facile, quest'epica impresa delle numerazioni sulla costruzione delle corruzioni che accompagna tutta la narrazione. Si potrebbe oppure continuare altrimenti se ancora rimanesse ancora insoluto il capire sottomesso alla ricchezza d'un re che ad alto livello non avete capito. Un passaggio sopra le sbarre della scena e così dicendo all'infinito.